Eccoci qua, Massimo, siamo giunti con Massimo, praticamente quasi alla fine è un parolone, però nel senso abbiamo fatto i più grossi, i corsi più spinti, più estremi, siamo arrivati quasi all'apice di cataclimb, ovviamente poi il percorso continua, perché continuo anche io, continuo allo sviluppo della persona, cioè non si finisce mai ed è questo il bello dell'arrampicata, però quello che volevo cercare di fare oggi era, appunto, dare la parola a Massimo e fare un attimo riassunto di quello che tu, prima chi sei e poi cosa hai fatto nell'arrampicata con me, compagnia bella, però magari più velocemente, dato che abbiamo fatto già altre interviste, dato che comunque lui è diversi anni che ci conosciamo, però siamo stati interrotti ovviamente due anni dal Covid. Ok, allora, vabbè, io mi occupo di sport, diciamo è la mia vita, di movimento mi piace definirlo così, che sia una ricerca personale che è un lavoro. Ho esplorato diversi ambiti sportivi, dalle arti marziali all'arrampicata, appunto, che è recente comunque come pratica mia personale, ho iniziato su al nord, più in ottica alpinismo, e sono, diciamo, dal 2020 che sono tornato a Roma, che ho conosciuto l'Accademia di Marco e mi sono, diciamo, avvicinato di più a quello che è il concetto di arrampicata sportiva vera e propria e con Marco, diciamo, in un'ottica forse più unica che rara, diciamo, nell'approccio, perché non è solo un salire, ma salire è solo andare più in alto, andare su qualcosa di più difficile, ma un andare più in profondità ed entrare più in sintonia con se stessi, sì, ma con l'altro, con chi si condivide la pratica, che forse è la cosa più bella e che e che dà più energia, perché, appunto, il trasferimento di energia che c'è tra una persona all'altra, la connessione che poi uno, che va, diciamo, ad amplificare il tutto, tutte le cose belle che ci sono in questa pratica meravigliosa, insomma. Vabbè, diciamo che sì, se stavo sintetico, però io punterei un po' di più sul fatto che diciamo che Massimo è simile a me, e guarda caso, infatti il percorso che stiamo facendo insieme è che noi alla fine abbiamo scelto di utilizzare il movimento proprio per la crescita personale e di conseguenza le nostre azioni riescono a essere molto più disciplinate, efficienti e a godere proprio dell'esperienza corporea e quindi del manifestare comunque se stessi nel momento che noi facciamo un'azione. Poi diciamo che l'ultimo corso di quello che abbiamo fatto oggi, appunto, oggi, in questi ultimi sei giorni, oggi è il settimo, siamo andati oltre, nel senso prima c'è un lavoro di introspezione dove noi andiamo a lavorare su di noi, ma successivamente dobbiamo amplificare utilizzando l'altro, quindi l'altro non è più un ostacolo, ma è proprio uno strumento, uno strumento per espandere, non è una questione di opportunismo, ma che proprio entrando in risonanza due persone riescono a generare molto, molto, molto di più di quello che in realtà si può fare da soli, perché? Perché aumentano i parametri, aumentano i punti di vista, aumenta il respiro, aumentano gli scenari e aumentano gli orizzonti e quindi quello che noi alla fine stiamo cercando, ricerchiamo continuamente, è avere la verità e la verità da solo diventa realtà, quindi avendo sempre più prospettive, noi andiamo sempre a cercare, che non è oggettività, è proprio verità. Racconta invece di questo campo, come l'hai vissuto? Ovviamente lo so, tu sei in linea, però diciamo, cerca di raccontarlo un attimo, raccontare tu questa esperienza dal primo giorno a ieri, che poi in realtà è stato proprio il nocciolo, perché vai. Ok, beh, parlando del mio caso specifico, diciamo, questa è la seconda settimana dopo agosto, che non è stata la prima, è stata comunque bella, ma complicata, perché c'è stato un infortunio al mio ginocchio destro, che era già compromesso per sport passati e quindi insomma è stato, questo è successo due mesi fa, quindi è stata una sorpresa comunque riuscire giorno per giorno a fare sempre di più, forse anche grazie a questo, perché uno si è, diciamo, in questi due mesi mi sono dovuto approcciare in maniera ulteriormente diversa, prendere atto di quello che potrebbe essere un problema, invece come al solito ritengo l'infortunio un'opportunità per conoscersi meglio e per andare oltre e quindi essere da una parte più attenti ancora, più rispettosi di se stessi e più rispettosi della pratica che si sta facendo e nello specifico io posso dire che ogni giorno ho appreso qualcosa in più senza mai, cioè facendo sempre cose in teoria sopra il mio limite, perché io non… Senza teoria… In pratica abbiamo iniziato sopra il mio limite e abbiamo finito ben oltre sopra il mio limite, però non mi sono mai sentito stanco, affaticato, dolorante, ma la mattina dopo ero sempre motivato e sempre pronto a fare qualcosa di più, ma non a livello quantitativo, a livello quantitativo, a livello qualitativo, a livello di impegno, di energia veicolata in quello che si sta facendo insieme, quindi diciamo che è un ritornare arricchiti sotto tutti i punti di vista, cioè oltre che chiaramente un divertimento, un piacere, è un qualcosa che comunque vissuto in questo modo ti cambia, ed è quello che penso chi utilizza il movimento, l'azione, la pratica fisica, come le parole poi sono convenzioni, quindi usiamole come vogliamo, basta che cerchiamo di capire il senso, ecco, per chi ha questa visione, è il modo reale di lavorare, insomma. Bene, grazie, grazie. Grazie a te Marco. Sono parole che apparentemente sembrano vuote, in realtà con l'azione uno cerca di entrare prima in coscienza e poi in consapevolezza sempre più profonda, andare sempre più in definizione di quello che stiamo esprimendo. Sì, col camp anche questo abbiamo iniziato appunto con esercizi diciamo tendenzialmente come approccio tecnici, ma poi di fatto siamo arrivati al permettere, al permettercelo, alla gentilezza, all'entrare in connessione, all'utilizzo dell'energia, a uscire dopo la sessione con più energia di quella entrata e a godere anche di questo, non nel sentirsi soddisfatti nella frustrazione e quindi quando io lavoro tanto, mi sono affaticato, io sono soddisfatto, questo è sempre una cosa che è un parametro tendenzialmente condizionato da un modello perdente, perché non è possibile che noi possiamo aspirare ad arrivare a meno. quindi lui ovviamente praticando anche lui da non so quanti anni che pratica alla fine questo, ma prescindere dall'arrampicata dico praticare proprio l'espressione corporea, lo studio, l'analisi, comportamento e movimento. beh, il percorso può essere iniziato… vabbè già dalla medicina in realtà… vabbè io sempre posso… no la medicina onestamente non ritengo sia… è uno strumento che può aiutare a capire, a decifrare alcuni aspetti, una prima fase di ricerca può essere iniziata a 16 anni con le arti marziali e con l'agonismo diciamo in quel settore, penso che però intorno ai 28 anni quando ho iniziato a trasferire dalla pratica esterna, la pratica interna, quindi passando dalle arti marziali a contatto pieno alle arti marziali interne allo yoga e a una visione del movimento più a 360 gradi e come diciamo percorso personale, percorso di vita proprio, vero e proprio e lì insomma c'è stato diciamo uno scatto, uno scatto che comunque mi ha portato a stare sempre meglio, avere sempre più energia, malgrado si ritenga che il tempo che passa ce ne dovrebbe dare di meno, come da lunedì a sabato noi sabato in teoria dovevamo avere meno energia, io sabato mi sentivo più energia di lunedì, malgrado la pelle fosse consumata, io sono tornato dalla falesia che ero canico di energia, tant'è che ho fatto fatica anche a dormire e stamattina comunque mi sono allenato insomma con entusiasmo insomma con piacere perché poi non è un fare per fare di più, per stancarsi perché così sono soddisfatto ma semplicemente un vivere, un vivere pienamente io vivo muovendosi, vivo mentre arrampico, lo faccio condividendolo con chi si riesce a condividere la stessa frequenza e questo è una fiamma, un'energia infinita che dà gioia proprio, gioia vera. La cosa che ovviamente qui avrei dovuto fare, avrei dovuto fare un filmato del primo giorno di noi due e io, cioè la differenza, notare proprio di espressione, cioè tutti questi sorrisi di Massimo, nostri, non erano così perché eramo, abbiamo fatto anche questo percorso, nel senso che noi siamo persone che vengono comunque, sono ex atleti, iper performanti, verso una performance di efficacia, di lotta, di conflitto, di imporsi, arrivare poi veramente a sorridere non è stato facile, però è successo e abbiamo deciso di guadagnarcelo, nel senso di permettercelo, di farlo accadere, insomma, è questo il percorso che cerchiamo di augurare un po' a tutti, soprattutto a chi arrampica e ambisce di rimanere in armonia. Sì, è una scelta comunque, è una scelta, è una scelta, è una scelta, insomma, auguriamo a tutti di sceglierlo. Grazie a te. Grazie a te.